Netto calo dei contagi negli ultimi giorni, ma non si può rischiare una nuova impennata in autunno tra i giovani. Dunque, chi non si vaccina non balla. E' questa l'ipotesi al vaglio del governo Draghi, in vista del tavolo tecnico di stasera sulla riapertura dei locali da ballo. L'idea del Ministero della Salute è quella di riaprire a luglio le discoteche, riservandole però a chi ha il pass vaccinale. Questa la razio, anche perché attualmente la curva pandemica è crollata e bisogna mantenere il trend. A sottolinearlo è il dottor Antonio Fortunato, direttore del laboratorio analisi di Ascoli, di recente insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per l'impegno profuso durante l'emergenza. La quantità di tamponi che stiamo facendo ha cominciato a diminuire solo negli ultimissimi giorni, anche perché stiamo comunque continuando a dare una mano alle altre aree vaste. Facciamo tamponi che arrivano da Fermo e a tamponi che arrivano da Senigallia. Però diciamo che la cosa positiva è che il numero di campioni positivi riscontrati è crollato. Anche il numero di campioni che noi inviamo per l'identificazione delle varianti è crollato. La tipologia di varianti nel nostro territorio è abbastanza focalizzata sulla variante che prima si chiamava inglese e che era la più diffusa, anzi forse l'unica virus che girava in zona. Però attualmente, adesso aspettiamo i dati di questa settimana, ma probabilmente sono solo varianti inglesi che abbiamo qua nel territorio. Con la fascia bianca all'orizzonte e in attesa delle prossime decisioni del governo, il dottor Fortunato invita tutti alla prudenza. Non sappiamo gli effetti di una liberalizzazione della circolazione delle persone e la vicinanza, soprattutto nei locali, cosa può portare. Questo nei dati di ieri a livello italiano si è visto che qualcosina sta riaumentando. Quindi l'importante è riprendere la vita, riprendere tutte le attività, ma cercare comunque di mantenere ancora per il momento dell'attenzione, proprio per evitare di ricominciare da zero.